Venerdì scorso sono stato a Berlino, adesso sono qui e mercoledì prossimo sarò a Parigi con lo scopo per ottenere l'appoggio delle grandi nazioni europee per il nostro programma ungherese. Prima di tutto citerei di che cosa non abbiamo parlato oggi. Non abbiamo parlato di questione di partito perché abbiamo chiuso tutto lunedì scorso. Lunedì a Bruxelles dove ho reso chiaro che noi seguiamo una politica nazionale, gli interessi nostri nazionali e noi non possiamo far parte di una famiglia politica di cui fanno parte un partito rumeno che è anti-ungherese e quindi questa è la nostra posizione molto chiara. Noi non possiamo aderire a una fazione simile. Siamo stati d'accordo lunedì anche a ribadire che nonostante ciò ci impegniamo tutti alla cooperazione, alla collaborazione, al rafforzamento della collaborazione tra i partiti di destra europee senza far parte della stessa fazione.